Che significa? Che lei aveva ragione, signor Cullen. Il detenuto amico di Arcadia e della CIA? Sì. L'uomo che Arcadia ha conosciuto con il nome di Balinski in realtà è l'agente della CIA, Randall Sharoff. È stato creduto morto finché non è arrivato quel video. E si trovano nel carcere di Nasarovo? Sì. Siamo autorizzati ad andare in Russia per salvarli? No. Non tutti e due. Soltanto Randall Sharoff. Forse i russi ci hanno attirati verso Sharoff, costringendo Arcadia a lavorare per loro. Sì. In effetti è molto probabile. Eh sì. Non lasceremo che Arcadia marcisca là dentro. Lei mi ha chiesto se vi sarà data autorizzazione a salvare Arcadia. Io ho già risposto a questa sua domanda. La CIA vi aiuterà tramite i loro contatti, ma non possono garantire la vostra incolumità. E se intervenissero i servizi russi? Allora sarete due agenti infedeli in una missione non autorizzata. Partiamo domani. Informo la squadra. No. Perché andrete solamente voi due. Che cosa pensi di fare con Anna? È Sharoff il vostro unico obiettivo. Le conoscenze di Anna in Russia vi torneranno utili, ma nel momento in cui lei o Arcadia dovessero compromettere la vostra missione, li lascerete andare. È tutto chiaro.